salve a tutti bentornati qui sul mio canale 1936 solo io oggi tredicesimo appuntamento con l'approfondimento delle squadre della serie b ragazzi oggi parliamo del venezia il venezia che come sapete lo scorso anno era retrocesso dopo la disputa dei play out sapete tutti le polemiche scaturite dal fatto che prima il palermo era stato retrocesso poi era stato rimesso era arrivato a metà classifica alla fine il palermo è fallito non si è scritto alla serie b è stato ripescato il venezia di da copina che quest'anno secondo me potrà essere una squadra una bella sorpresa prima di andare a parlare però di questo venezia 2019 2020 mi raccomando pollice in su su portatemi condividete il video nei vari social se ancora avete fatto lo ricordo iscrivetevi al mio canale qui sotto c'è il pulsante iscriviti vi ricordo che in descrizione trovate il link del gruppo serie b chat il gruppo di tutti i tifosi della serie b di tutte le squadre quindi venitevi a iscrivere in tanti trovate il link di pescaresi convinti gruppo di tifosi del pescara il link alla mia pagina facebook e la mia pagina instagram va bene andiamo a parlare di questo venezia 2019 2020 che quest'anno come vi ho detto potrebbe essere una bella sorpresa di questo campionato perché perché la rosa è stata stravolta sono arrivati dei bei giocatori il venezia giocherà sicuramente un calcio sebbassionite fresco e frizzante l'allenatore dionisi un allenatore nuovo giovane che ha fatto tanto bene in serie c quindi occhio perché quest'anno il venezia può essere una bella sorpresa sono andati via tanti giocatori e sono stati presi altrettanti quindi non c'è nulla per non pensare che quest'anno il campionato del venezia possa essere molto diverso da quello dello scorso anno innanzitutto il portiere in porta c'è lezzerini come suo secondo è arrivato svincolato pomini dal palermo che è fallito e poi c'è bertinato che è un portiere giovane e che andrà a fare il terzo portiere la linea difensiva sarà a 4 maledetta tosse come vi ho detto ci sarà fiordaliso che è un difensore attimo che mi sto strozzando è un difensore destro arrivato dal torino in prestito e sarà il terzino della stagione avvenire sulla sinistra ci sarà invece felicioli raga al centro al centro della difesa giocheranno modulo che il capitano della squadra che ben conosciamo il trentenne modulo e cremonesi che è arrivato dalla spalla sono due giocatori di categoria due giocatori di esperienza quindi quest'anno non ci sarà più domizzi che lo scorso anno era il capitano di questa squadra e che penso abbia finito la carriera essendo arrivato un'età molto avanzata per quanto riguarda il centrocampo raga il venezia giocherà con fiordillino che è un nuovo acquisto che arrivato sempre al palermo in cabina di regia con male e zuculini zuculini che è un altro giocatore molto 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 forte l'argentino mi pare o uruguayano uno dei due molto forte già lo abbiamo visto in opera al bologna con tacopina qualche anno fa è tornato in italia è venuto con tanto entusiasmo di far bene quindi occhio a zuculini come mezza punta agirà a ramu che è arrivato anche lui raga da dal siena se non sbaglio sto andando a ricordarmi mi pare di sì sarà la mezza punta e davanti niente proprio di meno che capello arrivato dal cagliari e bocalon che già lo scorso anno era a venezia che è arrivato dalla salernitana secondo me questa è una squadra che può fare grandi cose perché occhio che lì davanti capello è un prospetto molto 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 interessante occhio a bocalon e non scordiamoci di zigoni che lo scorso anno ha fatto una marea di gol e che quindi ha salvato anche con i suoi gol la squadra da una retrocessione diretta andiamo a parlare di questa rosa come vi ho detto il portiere titolare raga è lezzerini il secondo sarà pomini che farà da chioccia ai due portieri lezzerini che il primo e bertinato che il giovane che il terzo portiere in difesa i centrali sono motolo e cremonesi i titolari c'è Antonio Marino arrivato dal Lecce che si è infortunato a un'operazione allegamento crociato probabilmente rientrerà l'anno prossimo a febbraio marzo è arrivato Ceccaroni dalla dallo Spezia Casale dal Verona che è un giovane importante 1,91 un giocatore imponente per quanto riguarda la difesa è stato preso Mariano De Marino dal Palermo il giovane difensore centrale 19enne e poi come vi ho detto Feliccioli è arrivato dal Milan è arrivato in prestito Fior Daliso dal Torino e anche la Kicevic che è un altro terzino destro che può giocare sulla fascia destra è arrivato in prestito dal Genoa per quanto riguarda la mediana raga io ha giocato Malè vi ho detto di Malè però occhio perché potrebbe giocare anche Vacca lo conosciamo Antonio Junior Vacca arrivato dal Parma c'è Fiordilino che sarà sicuramente il titolare occhio a Zuculini che è arrivato dal Colon quindi è un giocatore molto 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 importante molto tecnico è un bel giocatore per la Serie B c'è Caligara in prestito dal Cagliari c'è Suciu che è rimasto lo scorso anno per quanto riguarda il centrocampo poi c'è Malè che è un ritorno è un giovane italo marocchino che è tornato dal prestito dalla Ravenna e che può far bene si alternerà con Vacca lì al centrocampo raga Aramo gira da mezza punta ve l'ho detto occhio 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 a Di Mariano a Francesco Di Mariano che l'anno scorso era uno dei giocatori più importanti di questa squadra anche si ha sofferto tanto con gli infortuni raga che dire si sono aggregati alla squadra anche Pimenta e Simeoni che sono due giocatori di fascia molto promettenti per quanto riguarda l'attacco vi ho parlato di Capello e di Bocalon come giocatori che possono giocare insieme e fare coppia occhio a Zigoni che potrebbe giocare al posto di Bocalon e poi c'è Senesi che è una punta che è arrivata dall'Olbia e che è un giocatore che può fare veramente bene una seconda punta è veloce è un giocatore dal fisico importante è un 80 non c'è un attaccante che è piccolino al Venezia occhio il Venezia ha tutti attaccanti dall'1.80 in su 1.86 1.88 1.83 Senesi è più piccolino 1.80 ma tutta la squadra generalmente tranne qualche centrocampista sto vendo che è una squadra molto strutturata molto impostata quindi sarà difficile per le difese avversarie andare a contrastare questi giocatori che hanno un fisico imponente per me è una squadra che può fare bene è una squadra che sicuramente non può puntare alle perlomeno parlo dei pronostici iniziali non può puntare a una griglia playoff per andare per tentare una promozione ci sono 10 squadre che sono nettamente più forte rispetto a questo poi il calcio si sa è tondo tutto può accadere credo che rispetto all'anno scorso la squadra sia costruita in un modo migliore c'è più qualità ci sono giocatori in più ruoli sicuramente davanti hanno delle persone che sono importanti come zigoni come capello come bocalon c'è aramu quindi di mariano sono tutte persone molto importanti da attaccanti assortiti chi è bravo nel colpo di testa chi è più bravo tecnicamente quindi occhio perché il venezia può fare veramente un campionato molto diverso rispetto allo scorso anno io adesso non conosco esattamente il gioco di dionisi vi ho parlato di un 4 3 1 2 poi mi posso anche sbagliare magari potrebbe essere un 4 3 3 inserendo la mezz'ala inserendo vacca facendo giocare di mariano esterno non lo so però in linea di massima è questa la squadra che vi ho detto non so adesso gli altri movimenti di mercato che ci potrebbero essere che ci saranno non so se qualche giocatore verrà ceduto tutto questo e io parlo sempre mi trovo al 20 di agosto al 20 21 di agosto il il calcio mercato finisce fra due settimane quindi al momento il venezia è una squadra da medio bassa classifica che potrebbe stupire e arrivare anche a una posizione di classifica un po più alta io spero che questo video vi sia piaciuto che sia stato utile spero che mi lasciate un bel like per supportarmi qui sotto se ancora avete fatto vi invito a iscrivervi al mio canale qui sotto c'è il pulsante iscriviti venite a iscrivervi su serie b chat il gruppo di tutti i tifosi della serie b trovate il link qui sotto in descrizione io vi saluto ci vediamo al prossimo video buona serie b dai che fra un po' incomincio il campionato ciao